serve qualcosa no 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 grazie questa volta sono stato molto attento le altre volte invece da un puttana puttana macchia struzza struzza ti faccio vedere io sai adesso ti faccio vedere io sei sto pulendo pulisco perché è molto meglio perché ha visto com'era sport era molto sport quando diceva puttana vecchia struzza lei alludeva sua moglie vero si come ha fatto indovinare io tutti i giorni si è vero signor direttore tutti i giorni all'entrata e l'uscita lui dice a sua moglie vecchia stronza e puttana puttana lei gioca a stecca io io sì sabato sera a casa mia tutti è un bel direttore sì una meravigliosa persona è un santo è un apostolo evviva il nostro ciao diego ciao allora beviamo un calice alla salute del vincitore basta bene adesso si gioca fattocci dov'è il fattocci fantozzi cercatelo ti sta chiamando fattocci oh eccolo qua cos'ha paura animo animo è pronto mammina andiamo fate passare fate l'arco fate l'arco fate l'arco raggio lo fai per me per vari angela vero sì 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 non ti preoccupare è una bella mamma grazie si va bene si è bello capito lei filini ragioni e renzo ufficio sinistri ragioniere si segnare punti o si stecche o grazie molto gentile e allora sono molto contento che vinca il miglior certo cioè io prego no io grazie prego è perché non mi piacciono prego se insiste io mangio questo ma cosa fa ma ecco qui a sinistra adesso no faccia il bufone di acqua e tiri cretino guardi che la palla è quella bianca ecco a lei sire signor professore non l'ha toccata neanche sfiorata no poco ha toccato mi sembra tiri coglionazzo su tiri bevuto un punto per me sì è un punto al direttore bravo direttore adesso le do una piccola lezioncina eh ti attento è un colpo da maestro bravo bravo grazie grazie otto punti segnare avanti metta su e ci sbrighi dai coglionazzo forza non si distraga tra poco è finita sai sì adesso e tiri su e faccio un rinterzo ma quello rinterzo è facilissimo tocca la mia fa punti e va a pallino e invece li ha bevuti il cretino vuole che li mangi anche gli ometti si vuole mangiare ma cos'è lei un cannibale dai bufonaccio bevuto ringraziamo il coglionazzo segna la giugnere grazie ah vediamo un po' bravo 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 altra bevutina ventiquattro per il signor direttore ha otto alla ditta segni i ragionieri otto punti otto punti alla faccia del coglionazzo ah questo è il culo coglionazzo l'ha otto questa è classe coglionazzo classe il suo è culo la mia è classe caro il mio coglionazzo al trentottesimo coglionazzo e a 49 a 2 di punteggio fantozzi incontrò di nuovo lo sguardo di sua moglie mi perdono un attimo vorrei vorrei fare un tiro io adesso segni con tre punti 11 oh mi scusi coglionazzo ecco altri 12 e adesso rinterzo ad effetto con birillo centrale cinque lei tiri super e dai segni calcio a cinque sponde e undici punti colpo partita triplo filotto reale ritornato con pallino silenzio ragionier fantozzi 51 direttore conte catellani 49 prende orecchia ma giovanotto ma cosa fa e metta giù scusi a signora guarda guarda quante catellani ascolti bene queste sono le condizioni per il rilascio di sua madre primo un vitalizio con tre vicesimo per mia moglie e mia figlia secondo un aereo che mi porti in libia ma subito la cosa più importante è l'aereo per la libia perchè qui su amante segni è il mio uomo io lo amo è il mio uomo perdonalo Diego te lo chiedi la tua mamma aspetti ma che fai ma che fai mi lascia sola ecco non vedi via Ugo non se ne vedi mi aspetti qua apri Ugo io ti amo apri io ti voglio non scappare non scappare